Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video, ma prima di cominciare con la recensione di oggi, come sempre, sigla! Bene, l'originale Netflix di cui ho deciso di parlarvi quest'oggi è I Mitchell contro le macchine, un film d'animazione scritto e diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe, è prodotto dalla Sony Pictures Animation, la sezione d'animazione della nota major cinematografica, che penso abbia raggiunto l'apice del suo successo, almeno per quanto riguarda questa sezione d'animazione, con il precedente film Spider-Man Into the Spider-Verse o Spider-Man Un Nuovo Universo, grazie anche ad uno stile unico ed uno stile che gli autori cercano proprio di riproporre in questo loro nuovo film, con una storia naturalmente molto diversa. Katie Mitchell, la protagonista, è un'adolescente decisamente molto creativa, che ha la passione per il cinema, per il videomaking, e che spera di realizzare il suo sogno iscrivendosi ad un'università di Los Angeles, naturalmente di cinema. Katie non vede davvero l'ora di partire per questa sua nuova avventura, ma la sua famiglia, in particolar modo suo padre, decidono assieme che, visto i diversi contrasti in famiglia, decidono appunto che tutti assieme la porteranno in un viaggio in macchina, quindi per gli Stati Uniti d'America, dal Michigan, dove abitano loro, fino in California. Katie, fin dall'inizio del film, ci descrive la sua famiglia come la peggiore del mondo, una famiglia decisamente molto ordinaria, con i soliti problemi tipici familiari, e che ogni famiglia deve comunque affrontare bene o male tutti i giorni, ma che si ritrova improvvisamente impegnata in un'impresa decisamente fuori dall'ordinario, ovvero salvare il mondo da un'apocalisse tecnologica che porta un esercito di robot e tutti quegli elettrodomestici dotati di tecnologia, da tutti noi conosciuti, che decidono che è arrivato il momento di ribellarsi all'essere umano e di porne anche fine proprio al genere umano. Questi robot, questa ribellione è capitanata da Pal, una sorta di Alexa più avanzata. Insomma, una storia con alla base un incipit, che comunque non c'è nuovo, le macchine che si ribellano all'essere umano. Ma la vera originalità che sta in i Mitchell contro le macchine sta nel come questa semplice storia ci viene raccontata e viene realizzata. Un film d'animazione che riesce a creare un mix perfetto tra divertimento, comicità, action ed emozioni. Alla base è ben evidente che il discorso è quello della famiglia, il rapporto genitori-figli. In questo caso vediamo analizzato in maniera più approfondita quello tra la bizzarra e molto creativa Katie e suo padre Rick, un vero e grande amante della natura. Tra i due sembra essersi spezzato quel legame nato quando Katie era solo una bambina. Per questo motivo Rick, il padre, decide assieme alla moglie, Linda, la quale ci regala, aperta una parentesi, una sequenza fantastica sul finale, ma che non voglio comunque spoilerare, assieme anche poi al fratellino di Katie, Aaron, decidono quindi tutti assieme di partire per questo viaggio, lungo tutto il paese, naturalmente in compagnia del tenerissimo cagnolino Mochi. Il tutto si svolge in un mondo che potremmo definire abbastanza contemporaneo, dove vengono però inaugurati sul mercato dei robot decisamente molto avanzati, comunque dei robot, quindi un futuro sì contemporaneo, ma diciamo che vanno a creare quel tipo di futuro ipotizzabile comunque, perché non è che siamo così distanti da quanto ci viene mostrato in questo film. Anche perché proprio come i personaggi di questa storia, anche noi siamo un po', anzi più di un po', schiavi della tecnologia. E come abbiamo visto in tantissimi altri film, in tantissime altre pellicole, anche questa volta le macchine decidono di ribellarsi ai loro creatori. E in questo caso la famiglia Mitchell, la disfunzionale famiglia Mitchell, si ritrova quindi ad essere improvvisamente l'unica vera salvezza dell'umanità. Alla base c'è quindi sì un messaggio davvero molto profondo, ed una critica non indifferente. Attraverso però, la forza sta proprio lì, attraverso un linguaggio che è accessibile a tutti. Dai grandi che magari ci vedono questa grande critica che c'è comunque di fondo, ai ragazzini più piccoli che comunque si divertono tra anche tutte le gag relative anche a solo del cagnolino. Perché il film è comunque ricco di battute e sequenze super divertenti che vi giuro io per alcune ero davvero piegato in due dalle risate, ma anche sequenze diciamo più drammatiche, più emozionanti, più profonde a livello di sentimenti. Un progetto nato in realtà da tanto tempo e che appunto all'inizio era stato sponsorizzato anche quando uscì il primo trailer e il primo poster con il titolo di Super Connessi, visto il discorso di critica che sta alla base. Ma poi è stato definitivamente cambiato in i Mitchell contro le macchine. Decisamente sì, forse un titolo un po' più accessibile. Un film che comunque doveva uscire, come tanti altri titoli, in sala, ma come ormai stiamo dicendo da un po' di tempo a causa del covid-19, di questa pandemia, è stato poi venduto ad una piattaforma streaming, in questo caso Netflix. Insomma, i Mitchell contro le macchine non è comunque un semplice film d'animazione, ma bensì un'enorme critica sociale mascherata comunque da una tecnica che mi affascina ogni giorno di più e che oltretutto è ancora più grandiosa grazie a questo nuovo stile che ha deciso di mettere in gioco, di utilizzare, in questo caso la Sony Pictures Animation, che ci porta a vivere il film quasi come se dovessimo sfogliare un vero e proprio fumetto. Davvero, una storia ordinaria realizzata in maniera straordinaria e che mi auguro davvero non passi inosservata. Dovete recuperarlo assolutamente, fatemi sapere naturalmente qua sotto, con un commento, se vi è piaciuto, se l'avete appunto recuperato. Detto questo, posso concludere con l'amico che se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividere sui vostri social, inoltre mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, tutte le Instagram, vi guardate tutti qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscriviti al canale, iscrivetevi subito e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi video. E noi ci vediamo a una prossima video recensione. Ciao! Ciao!